Un calcio di rigore di evacuo al novantesimo concede al Brindisi nel recupero contro il Cerignola tre punti pesanti in ottica salvezza. Un successo più sofferto di quanto ci si potesse aspettare dopo i primi 45 minuti chiusi dal Brindisi in vantaggio grazie alla rete di Forbes. Poi il pareggio della ripresa della scuola foggiana con una punizione del bravo e giovane Aschic che aveva fatto tornare lo spettro Fanuzzi nei brindisini. La rete poi di evacuo dal dischetto ha permesso a Brindisi di ritrovare la vittoria interna dopo sette mesi con un successo che tiene viva le speranze e salvezza in particolare dopo l'ufficializzazione della riduzione a due retrocessioni invece delle attuali quattro. Al termine della gara bocchie cucite da parte del tecnico e calciatori che scelgono il silenzio. Unico a parlare il consulente tecnico Renato Voglino. Tre punti pesantissimi e meritati. Meritati ci volevano anche per il morale per poter affrontare poi queste altre cinque finali che ci spettano. Un passo sicuramente importante nella classifica ma forse anche sotto l'aspetto mentale serviva tanto ritrovare tre punti. Al di là della classifica dove alla fine io ve l'ho sempre detto anche se qualche mio collega, amico, giocatore, qualcuno diceva che era un folle a dire che ho sempre creduto in questa squadra perché se la può giocare con tutti. Al di là di tutto è fondamentale come hai detto tu per il morale. Questi sono dei ragazzi che insieme al mister e allo staff lavorano ogni settimana sotto il nostro controllo e lavorano con professionalità. Nonostante le 3.000 difficoltà che questa società ha e sono palesi va fatto un plauso ai ragazzi. Sono stati veramente bravi. Grazie.